Due crisi a confronto. Ne parliamo con Gianni Toniolo dell'Università LUIS di Roma. La mia relazione oggi ha messo a confronto la crisi degli anni 30 con quella attuale, soprattutto concentrandomi sul caso italiano. Sono emerse due o tre, mi pare, conclusioni importanti. La prima è che la crisi economica italiana attuale è stata la più grave nella storia economica dell'Italia. È stata quindi, se guardiamo il PIL, peggiore della crisi degli anni 30. Questo è un elemento che non viene sufficientemente sottolineato a mio parere. Però vi sono importanti differenze, non tutte a sfavore della crisi attuale. I consumi nella crisi attuale e l'occupazione sono caduti meno che negli anni 30 e quindi la perdita di benessere da parte della popolazione è stata inferiore oggi rispetto agli anni 30. Questo perché abbiamo uno stato sociale molto più sviluppato, perché le famiglie avevano della ricchezza che potevano decumulare e perché nel complesso il paese è molto più ricco. L'altro punto a favore di questa crisi è che la globalizzazione, l'apertura dei mercati ha fatto sì che le esportazioni avessero tenuto molto più oggi che negli anni 30. Il vero punto dolente sono stati gli investimenti. Gli investimenti privati e pubblici sono caduti nella crisi attuale molto, ma molto di più che negli anni 30, questo fa sì evidentemente che noi abbiamo ipotecato il futuro in questa crisi se non recuperiamo rapidamente un livello di investimenti compatibile con una crescita di lungo periodo. Nel complesso però va detto che la crisi degli anni 30, gli investimenti furono in gran parte tirati dalla domanda bellica o della preparazione per la guerra e che quindi tutto sommato non era una condizione terribilmente favorevole della quale noi dobbiamo in questo momento guardare favorevolmente.